Dal sindaco della città metropolitana Brugnaro al collega di Padova Giordani, il vescovo di Chioggia al padrone di casa Armelao. 15 personalità tra primi cittadini, consiglieri regionali, rappresentanti della vita accademica, insieme per sostenere la candidatura di Chioggia, capitale italiana della cultura 2024. Vedere tutti i sindaci insieme a sostenere questa candidatura, dall'immagine bella, in un tempo di guerra come questo, vedere che invece ci sono realtà che cercano di camminare insieme è consolante. Chioggia ha sostenuto l'audizione nel primo giorno di presentazione del dossier, elencando i suoi punti di forza. In primis il fatto che si tratti di una candidatura partita dal basso. Uno dei punti di forza è proprio quello che questo dossier, questa candidatura parte proprio da gente che vive e lavora la città di Chioggia. Quindi non è partita questa candidatura per una volontà politica, ma è partita per la volontà della cittadinanza, dei cittadini che se sono comunque orgogliosi della propria città, ha detto perché non partecipare, perché non fare un dossier per poter partecipare e far sì che la nostra Chioggia possa diventare anche capitale della cultura. E così è stato. Quindi noi abbiamo il potenziale che la candidatura è partita dalla base, quindi dai cittadini che vivono il lavoro qui a Chioggia. L'altro potenziale è che Chioggia è già una capitale, è già capitale della pesca italiana. La terza cosa, io ovviamente lo ricordo sempre, è che abbiamo l'orologio in funzione più antico al mondo. I modi per essere promossi sono due. Vincere il titolo con un milione di euro, ma se così non sarà, mettere in atto comunque il progetto di rilancio contenuto nel dossier, viste le numerose potenzialità di Chioggia. Chioggia ha fatto un dossier di candidatura molto legato alla trasformazione sociale ed economica del suo territorio, sottolineando tante unicità di questo luogo così affascinante, così caratterizzato proprio da essere a metà tra terra e acque, con una storia antichissima, con delle eccellenze gastronomiche produttive straordinarie. Crediamo che un aspetto specifico di Chioggia sia quello che ha come una ricchezza potenziale ancora latente, che aspetta solo una miccia per essere moltiplicata, scatenata e per andare ad aumentare l'offerta della località. Dita incrociate in attesa del verdetto che sarà il 29 marzo.